il bracca si è calmato si è calmato prendo il core e ce ne andiamo dio cane dio cane ok perché sono uscito prendiamo il core e ce ne andiamo perché l'ho veramente guardato negli occhi stai da morte no ma dio cane ciao mi ha morso il culo andiamo via ma dobbiamo andare dalla fire exit tipo eh facciamo la fire exit allora eh ma ormai abbiamo tolto e chi se ne frega io me ne frego mi frego addosso oh si mi fa ridere che vi dico sempre sto posto fa schifo perché il bracca è comunissimo guardi dentro bracca prima missione guardi dentro il bracca vabbè prima la sessione di opens due volte su tre c'era il bracca quindi insomma siamo anche sfigati in noi cacca per cento di si la run di prima era tipo bracca in run perché l'abbiamo trovato tipo quattro volte perché la luce è spenta perché il remote spegne quella ah dov'è dov'è si mi fai lo scherzone che ridere ok torniamo ok allora io però non avrò guidami non avrai io non avrò l'assunione la protagonista il bracca io lo so che non posso vincere con la palla per esempio vabbè andiamo alla parezza ti sono già quasi morto bene io no mi sarà quello che morirà per ultimo non morirà non dell'assun e non allontaniamoci troppo ma è qui è qui è qui è qui ho qui non lo so era dentro che palava dio ok stavo premendo per uscire pasqui non c'era e tu? io non l'ho visto io stavo andando fuori sei stato Bracken beh siete tutti e due lì e lui vi sta facendo le carezze è perchè la sua stanza ma che cazzo c'è la sua stanza era la fai c'è ma ci credi che la stanza preferita del Bracken era quella? quali erano gli oddi? porco dio io ci credo ma che cazzo di sfumare mi ha tenuti tutti e due lì nell'angolino qual'era la sua stanza? ma che cazzo fuori mi farà ridere eh si mi farà ridere mi farà ridere se non voglio vederlo che si spaventa di merda questa è una cosa ridotta si la libreria ciao oh 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 ahah 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 che paura ahah A che ridere A che ridere A che ridere Ok, sotto No No Ok, andiamo dall'altra parte Cado Non è vero Ho fatto lo scherzone a Pasqui Buon Natale Vado Sì Chi ha teletrasportato Chi ha teletrasportato Io non ho toccato il teletrasporto No, nel senso, chi ha teletrasportato Eh, non lo so Torretta, state... Torni dietro, torni! Perché Perché? C'è la torretta lì Trocciano non ci prende Spero Ok, ho già preso tutto Andiamoci Sì 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 ha preso l'ha preso il gambero che fa sul tetto e come ha girato all'angolo c'era un nutcracker e un po i red tutto questo fa più ridere se pensi che è successo in due secondi e mezzo che poi che sfiga mi è capitata l'edificio normale